Gli ingegneri stanno lavorando sul regolamento per la formazione continua, a che punto siamo? Siamo già quasi alla fine del nostro percorso, devo dire che questa attività è stata coordinata in modo straordinario dal vicepresidente Fabio Bonfà, c'è stato un confronto fra tutti i presidenti d'Italia, confronto che è avvenuto sia in sé di assembleare che nei gruppi di lavoro. Oggi siamo arrivati alla fine, come dicevo, di questo percorso e il giorno 11 maggio sarà presentato all'assemblea dei presidenti proprio per avere il parere definitivo dell'assemblea dei presidenti d'Italia.